C'erano i tifosi di ieri e di oggi con la presenza anche dei fondatori del gruppo storico Curva Sud, ma anche gli amici e gli abitanti del quartiere romano dove si era stabilito la Balduina, oltre ai tanti giocatori di tutte le età che ha allenato. Per l'ultimo saluto a Giacomo Losi, per anni capitano giallorosso e recordman delle presenze in campo, superato solo da Totti e De Rossi, morto a 88 anni lo scorso 4 febbraio, si è riempita a chiesa di Santa Paola romana con tanta gente rimasta fuori ad attendere l'uscita del feretro. Capitano per sempre e lo striscione che gli hanno dedicato gli ultrapi. La mattina della conferenza, non so dove abita, sono andato sotto casa sperando che portasse bene, li ha portato bene, abbiamo vinto. Con Giacomino Losi abbiamo fatto 5 tornei, campionati nazionali autoferro-tranvieri, abbiamo vinti tutti e 5 e lui correva di più dei giocatori in campo. Presente anche Picchio De Sisti che esordì in prima squadra, proprio con Losi capitano. Non era solo forte a giocare a pallone, era altruista, era solidale, era uno che aveva un'anima, sempre una parola buona per tutti. Tanti anche gli attori presenti, fu proprio lui infatti ad allenare la nazionale attori e cantanti, fondata da Pierpaolo Pasolini nel 1971. Era una brava persona, unico, era veramente un campione, era un capitano proprio della vita. Mister Magu, come lo chiamavo io, perché un pochettino c'era quella fattezza là, è stato un padre per molti di noi. Grazie. 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 Grazie.